Il Presidente una serie di modificazioni, la città, per cambiare le logiche dell'administrazione. E questo è una responsabilità che riesca a dire esclusivamente sull'administrazione, non è questo il punto che non c'è. Non si manda, non si manda, non si manda. Lo diciamo da me, spero che rischiamo che è brutalmente accaduto. Rispetto alle cose in parte, rispetto ai piedi, in questo Consiglio Comunale, che ha arrivato qualche ricettino, il sottoscritto che ha partecipato attivamente all'assessore di quell'altro ricettino, rispetto ai piedi che è più accesa, nel termine di protezione statale, di pubblica e di protezione, di eventuali interventi dei figli sulle strade, e di eventuali interventi dei figli sulle strade, in questo Consiglio Comunale, oltre a 25 anni, puntualmente, per il Pianco, io trovo un portato di diritto, dove mi chiedo, le manutenzioni dovrebbero essere i piedi, e non le trovare. Quindi facciamo, facciamo gli arrasciamenti, e facciamo gli arrasciamenti. Rispetto poi, alle questioni che sono sulle vado, rispetto alle periferite, voglio semplicemente dirti, voglio semplicemente dirti, e ricordarti, che con l'amministrazione del Pianco dell'Ara, ha distruttosto sui tanti dettagli del Pianco Comunale, un evitamento, che dovrebbe interessare anche al Sottile Dubile, che è stato un vero, e almeno espracciato, questo Pianco di Consiglio Comunale, che il progettivo prevedeva, in base alla delibera di priorità, alla delibera di priorità, a fare alcuni stati, e a domanda alla cazza dei vostri festi, un finanziamento, un denuncio, di tutti e oggi, a tutti i votati, che si ha la rinuncia di persone, da adesso, e con ogni anni, di altri, di altri, Questa delibera, è stata completamente distracciata, è stata posata, alla voce del Pianco di Pianco di Pianco, che sono i comuni PAS, e i comuni PAS, e i comuni PAS, che rappresentano, agli attività, di travere a leggere, e quei votati, che sono stati 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 in Consiglio Comunale, che hanno sottolineato, e altri competi, sono stati utilizzati, sia la rinuncia di condizioni, eupportati, il 50% del Prodegnatura del Pianco e l'����ligt Brinco, e anche se lo sera i drape jugli, in tutti gli interventi, abbiamo notificato noi Uppuri, AN hanya, che credono a implementare, legge li 20 persone del Consiglio Comunale, e e i esercitavolissimi completamente abbandonati. Dunque l'educaile sempl�ente dell'artistocuratorio, non si fotografo il fanco di investito, propriovii salvavano gli strumenti del Pianco, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.